Ecco, signor Presidente, in che anni? Anni 70, prima giocata in botta, 15 anni e poi non subito, ma non manca, passato il tempo, mi sono sponsorizzato e ho preso la scuola in mano. Se dovessi dare un consiglio a questi ragazzi nuovi che adesso iniziano questa avventura, che gli direste? Di mettere la testa giù e lavorare, lavorare, non va a dare niente, soltanto a giocare e basta. Ma c'è un ricordo della vostra carica di Presidente, un bel momento, una trasferta, qualcosa? No uno, ma gente. Se vede bene uno allora? Uno, tenendo conto uno a Falerna, avevamo avuto delle discussioni qua in casa, avevamo avuto delle discussioni in casa, poi il Presidente di Falerna, quando veniva a Falerna ci vediamo, e veniva a fare un altro partito. Appena che siamo andati nel campo del Falerna, guardate l'incontro, vi ho conosciuto, siete un signore, fate quello che volete. L'augurio mio è di stare bene e di vengere tutti. Benissimo, vi ringrazio, grazie per la vostra pazienza. Grazie. Grazie. Grazie.